La maggior parte dei pazienti con malformazione di chiari sono donne e inevitabilmente molte di queste donne avranno dei bambini a qualche punto, diventeranno pregnant e avranno dei bambini. Ci sono delle considerazioni per la malformazione di chiari. Non c'è un'uniforme scuola di pensiero riguardo a questi concetti, per cui quello che vi dirò adesso è quella che è la nostra impressione personale. Guardando i nostri pazienti nel tempo e guardandole andare attraverso la gravidanza, abbiamo realizzato che ci sono delle fasi differenti attraverso il primo, il secondo e il terzo trimestre. Il primo trimestre è particolarmente drammatico con la nausea e il vomito. Questi pazienti tendono ad avere, come tutti gli altri normali, un periodo non troppo felice. La presenza del vomito può esacerbare le cefalee tipiche del chiari. Allora, al tempo del secondo trimestre c'è generalmente un miglioramento. Un miglioramento non è solo l'assenza della nausea, ma è un miglioramento dei sintomi che sono in connessione e tu la chiari. Quello che le nostre pazienti definiscono la vacanza dalla malformazione di chiari. È come se avessero ingerito una pillola magica e i loro sintomi migliorano. Non abbiamo una spiegazione meccanica per queste cose, probabilmente ci sono molti cambiamenti fisiologici che sono spiegati da meccanismi ormonali, ma la realtà è che i pazienti di chiari sono peggio della normale popolazione durante il primo trimestre, ma molto meglio della normale popolazione, molto meglio di se stessi nel secondo trimestre, al punto che molti dei nostri pazienti vorrebbero stare gravide per sempre. Durante il terzo trimestre la situazione si complica. La situazione si complica perché la pancia diventa grossa, il feto diventa grosso e in parallelo alle vene varicose che si vengono a presentare c'è un incremento della pressione intra-abdominale e intra-toracica, per le condizioni che possiamo immaginare. L'incremento della pressione intra-toracica e intra-addominale ha una ripercussione sulla pressione del liquor. La pressione del liquor è influenzata da due cose. Una è l'incremento di queste pressioni e la seconda è il fatto che il progesterone che si accumula durante la gravidanza aumenta il volume dei liquidi extracellulari e il liquor, il liquido scefagorachidiano è uno di questi. Per cui c'è un incremento del volume del liquor e un incremento della pressione. Questo è il momento più vulnerabile per pazienti non con formazione di chiari. Una formazione di chiari il peggio che ti possa capitare è un pochino più di mal di testa del solito. Ma pazienti che hanno una cavità seringomielica molto estesa e molto sintomatica, questi sono i pazienti che sono più vulnerabili. Un'altra cosa che non si può fare a questo punto e siccome non ci sono dei controlli di sicurezza che sono attendibili, non si possono fare delle risonanze magnetiche molto spesso senza avere da qualche parte nella nostra testa dei dubbi che stiamo facendo del male al feto. Per cui cosa facciamo se abbiamo un paziente con una cavità seringomielica molto grossa che sta deteriorando e sta sviluppando dei nuovi sintomi o dei sintomi vecchi che stanno diventando molto drammatici. Quello che generalmente raccomandiamo è a questo paziente di avere una risonanza magnetica alla venticinquesima settimana di gravidanza. La venticinquesima settimana di gravidanza è importante perché se a questo punto facciamo una risonanza e vediamo che la cavità seringomielica per esempio è raddoppiata di dimensioni o c'è una propagazione centrica, tutte condizioni che sono dei grossi campanelli di allarme. A questo punto a 25 settimane di gravidanza uno può fare un'induzione del parto e avere un feto che ha delle significative possibilità di sopravvivenza. Per cui non vogliamo a questo punto che la gravidanza divenga un pericolo per la madre se questa madre ha una cavità seringomielica. Non vogliamo che il prolungare la gravidanza fino alla fine crei un rischio. Ovviamente se la cavità seringomielica se ne sta quieta dal punto di vista clinico non c'è nessuna ragione di fasciarsi la testa o di creare delle preoccupazioni e uno può continuare il periodo di osservazione clinica o senza fare una risonanza. Il problema del parto è particolarmente importante e delicato perché durante il parto la gravida fa esattamente tutte le cose che un paziente dichiaro non dovrebbe fare, che è spingere e fare dei grossi meccanismi di falsa. Immaginate di andare al gabinetto e siete costipati da 30 giorni e spingete come dei dannati, questo è quello che una donna normale fa alla fine, specialmente se ci sono delle differenze se questo è il primo bambino o questo è il secondo bambino o un terzo bambino. Quando il primo bambino viene fuori c'è una resistenza all'uscita che è dittata dai tessuti freschi, una volta che una mamma ha avuto già 4, 5, 6 bambini o un bug, i parti successivi diventano più veloci e l'estensione di quanto lei deve spingere diventa meno e meno. A questo punto ci sono alcune persone che dicono probabilmente non c'è un grande pericolo, puoi fare tutto quello che vuoi, altre persone che dicono neurochirurgiche dicono tu devi fare un parto gesareo, è assolutamente necessario. Il problema è che nel parto gesareo ci sono dei problemi di anestesia generale, ci sono dei problemi di interferenza con le attività respiratorie del neonato che non sono privi di rischi per la madre e per il neonato. Per cui quello che abbiamo deciso durante il nostro periodo e che abbiamo cambiato un poco alla volta nel tempo è di avere un atteggiamento individuale per ogni paziente. Per cui cosa facciamo come esperti? apriamo un dialogo con il ginecologo e con l'anestesista ad alto rischio, delle gravidanze ad alto rischio per discutere queste situazioni. Cosa diciamo? Prima cosa, fare un epidurale non è controindicato, se è fatta bene. La realtà è che la maggior parte, specialmente negli ospedali americani dove ci sono un mucchio di pazienti e non molti dottori, la tendenza di fare di epidurali è che uno va giù, va lì, mette il lago molto in fretta, passa e va fuori e va a fare il prossimo paziente con una catena di montaggio. Il problema dell'epidurale è che se l'ago nel tentativo di accedere a quello spazio, quello spazio dal di fuori della dura, se uno fa un wet tap, che significa un'inserzione del lago che è umida, può capitare che uno va un paio di millimetri più profondo, passa attraverso la dura e se quello capita, chi se ne frega, vedi, tu tiri indietro il lago e sai che sei nella posizione ideale e poi passi il catetere per l'epidurale o ingetti per l'epidurale. Nei pazienti, per soggetti normali, questo non è un problema, ma se uno ha una malformazione di chiari, può creare una perdita liquorale ridotta a quel punto. Se la perdita liquorale è cospicua, può creare una cefalea posizionale. Cefalea posizionale è una in cui se tu sei completamente sdraiato, sei a posto e ogni volta ti siedi su o ti metti in posizione retta a una cefalea della madonna e ti devi mettere di noio. L'unica cosa che te la fa mandare via è andare di nuovo nella posizione orizzontale. le persone normali possono riparare quel piccolo buco nella dura in una misura variabile tra un giorno e 15 giorni e non è un grosso problema dal punto di vista medico. Gli dai dei antidolorifici, lo idrati un mucchio e la madre natura fa il resto. Nei pazienti con chiari, questo può creare un meccanismo di depressione. Non c'è un mucchio di liquor che viene fuori, non ci sono litri o nemmeno centinaia di millilitri che vengono fuori, sono pochi millilitri, ma questo crea uno stato di depressione che non necessariamente sposta le tonsille in basso, ma le fa incastrare di più. È come se uno ha una bottiglia di vino e rimuove il tappo e poi per conservare il vino mette il tappo di noio e lo spinge così. Per cui il tappo ha un pochino più di grip, ha un pochino più di presa all'interno del colo della bottiglia. se le tonsille sono un pochino più incastrate, questo significa che può avere un effetto più addizionale sull'interferenza col flusso liquorale e può causare un corrispettivo incremento del quadro clinico più sento. Qual è l'implicazione? L'implicazione è che se uno sa che la gravida ha una malformazione di Chiari, l'anestesista deve fare molta attenzione ad introdurre l'epidurale, deve andare più piano del solito, deve essere più predente del solito e se c'è un wet tap, perché capita se la punta del lago ha penetrato la dura e lui lo sa perché c'è del liquore all'interno del lago o nel giorno successivo si verifica una cefalea posizionale, a questo punto si deve fare immediatamente un blood patch, un patch ematico. Patch ematico è molto semplice, ti rimuovono alcuni millilitri di sangue dalle tue vene e te lo riniettono qua dove era stata fatta l'epidurale. Il principio è quello del bambino olandese con il buco nella diga che mette il dito, se c'è un buco nella dura e uno mette un tappo di sangue, il sangue si coagula e crea un tappo in quest'area che tampona la fuoriuscita e previene la fuoriuscita di fluido. Per cui l'epidurale non è controindicata, ma uno deve farla attentamente e deve avere un basso threshold, un basso indice di sospetto che c'è stato qualche problema e lo deve trattare aggressivamente col patch ematico. La spinale nel passato era fatta con dei tubi che erano troppo grossi per i pazienti con chiari e automaticamente creava, siccome la spinale va all'interno della dura, creava delle fistole liquorali che erano inammissibili. Recentemente con l'evoluzione della tecnologia dei cateteri che vengono introdotti sono di 27 gauge, che sono enormemente più piccoli degli aghi della spinale epidurale e molto più piccoli degli aghi che sono usati per la puntura lombare. Per cui da un punto di vista di sicurezza l'anestesia spinale ha meno possibilità di creare dei problemi per pazienti con chiari se usiamo di questi cateteri di 27 gauge. Ovviamente, come nella classe degli epidurali, se nel aftermath, se dopo, nei giorni successivi ci sono dei sospetti clinici di cefalea posizionale, stessa cosa, si deve andare aggressivamente con un pace emetico e si deve resistere alla tentazione di, ok, aspettiamo 10-15 giorni. 10-15 giorni può fare una grossa differenza per il malato di chiari e può trasferirlo da una categoria di sintomi lievi per la durata della vita a sintomi moderati o severi per la durata della vita. Il parto per sé è un problema che dipende da… è un problema che è influenzato da diversi fattori. Una è se il paziente sta avendo il primo bambino o il quarto bambino, il secondo è se il bambino ha una presentazione podalica o una presentazione normale, la terza del bambino, per problemi come il diabete, è molto più grosso del canale di espulsione, del canale del parto. Tutti questi fattori influenzano quanto difficile, quanto prolungata sarà il meccanismo del parto. Siccome durante il meccanismo del parto la paziente deve spingere, questo crea dei problemi che per i pazienti con chiari. Per cui se c'è una… se l'ostetrico anticipa che ci saranno delle spinte, ma non ci saranno 6 ore di spinte, a questo punto non c'è un problema per i pazienti di chiari, può andare bene. Ma se ci sono delle disproporzioni tra il feto e il canale del parto, se ci sono dei problemi e il feto si comincia ad avere dei… ci si anticipa che il periodo del parto proprio sarà più prolungato, nell'interesse dei pazienti con malformazione di chiari, in interesse specificamente ai pazienti con malformazione di chiari e cavità seringomieliche grandi, si dovrebbe abbassare l'indicazione per una sezione cesare. La sezione cesare può essere fatta con diversi meccanismi di anestesia, questa sarà la preferenza dell'anestesista. Una parentesi per i pazienti con disordini del tessuto connettivo. I pazienti con la sindrome di Ehlers-Danlos hanno articolazioni che si dilatano e si muovono in modo eccessivo, che non necessariamente è un male, vedi gli artisti del circo, gli acrobati e i contorsionisti. In certe occasioni può essere un bene, può essere un aiuto. Se c'è una leggera disproporzione o anche una disproporzione notevole tra il prodotto del concepimento e il canale del parto, siccome durante il parto la simfisi pubblica, che è una piccola articolazione tra le ossa del bacino, si dilata un pochino per mettere il passaggio alla testa del bambino, questa dilattazione della simfisi pubblica, che è fisiologica durante il parto, diventa enorme per i soggetti con sindrome di Ehlers-Danlos. Per cui tu puoi passare un camion e lo sforzo di spingere, lo sforzo necessario diventa molto di meno. Per cui questo parametro è uno dei parametri che sono protettivi e che aiutano il paziente a dichiarare. Per cui il nostro approccio personale, che non abbiamo delle ricette rigide, segnaliamo all'ostetrico e all'anestetista che lavora con l'ostetrico quali sono i nostri problemi e quali sono le cose che dovrebbero usare e quali sono le reazioni che dovrebbero avere. non abbiamo, non diciamo di sicuro che le persone non dovrebbero avere l'epidurale, che non dovrebbero avere l'espinale e che tutti quanti dovrebbero avere la sezione cesare. La cosa principale è che vogliamo che tutti quanti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Il paziente, il neurochirurgo o neurologo, l'anestesista e l'ostetrico. E quando c'è questo tipo di comunicazione, i risultati buoni verranno di sicuro. E' molto raro che un paziente, alla fine di tutto questo, sia talmente in bad shape, in cattive condizioni che richieda una chirurgia d'urgenza. è molto rara nella nostra casistica e è avvenuta solo una volta e non anticipo che sarà una cosa altra che rara nel futuro. Per cui la gravidanza non è la fine del mondo e di sicuro per un paziente di bicchiare. E di sicuro la seconda, la terza e la quarta gravidanza, con una fortuna, saranno molto più facili. Grazie. 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 Grazie.